C'erano anche fortunati vincitori di giochi a premio e scommesse tra le 24 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza e che sono state scoperte dai controlli della Guardia di Finanza di Pescara. In sette avevano vinto e non dichiarato circa 400.000 euro, con vincite che singolarmente andavano dai 10.000 agli oltre 100.000 euro, quando la legge impone l'obbligo di comunicazione all'Inps delle vincite superiori ai 6.000 euro entro 15 giorni. I finanzieri complessivamente hanno accertato una frode nei confronti dello Stato da 275.000 euro, verificando la veridicità delle dichiarazioni Isee, la cui produzione è necessaria all'ottenimento del beneficio messo in campo dal Governo per contrastare la povertà. Il reddito di cittadinanza infatti è subordinato ad una serie di requisiti reddituali e patrimoniali, nonché alla compatibilità del nucleo familiare del richiedente. Tra gli altri indebiti percettori del reddito di cittadinanza sono stati scoperti anche due lavoratori in nero, già in precedenza individuati dalle fiamme gialle nel corso dei controlli in materia di lavoro. Per tutte le 24 persone oggetto dell'accertamento sono scattate le denunce alla Procura della Repubblica di Pescara per aver fornito dichiarazioni false e omesso informazioni dovute in sede di richiesta del reddito di cittadinanza e contestualmente all'Inps per la revoca ed il recupero del beneficio economico. Complessivamente da inizio degli accertamenti successivi alla pandemia i finanzieri di Pescara hanno accertato 41 casi di indebita percezione del reddito di cittadinanza o di altre prestazioni sociali agevolate per un totale di 484 mila euro.